sa prova ok cominciamo subito live improvvisata benissimo sa prova allora allora abbiate pazienza che mi organizzo e cominciamo subito ok si sente benissimo perfetto allora abbiate pazienza facciamo così allora allora ok ok sta a prova allora cari amici vogliamo cominciare subito perfetto uno due tre eccolo qua perfetto ok allora gentili ascoltatori io vi saluto a tutti quanti benvenuti nella presente live è una live altamente improvvisata decisa seduta stante il mio nome è Alessio Evangelisti e vi sto praticamente avvisando di un qualche cosa che si è appena concretizzato ovvero poco fa non molte ore fa benissimo quindi innanzitutto vogliamo ringraziare la persona che ci ha come dire questa mattina trasmesso la notizia quindi il fratello Giovanni Micalizi bene io lo saluto saluto lui saluto anche so che è sposato sua moglie e niente chiede che Dio ti benedica te e tutta la tua famiglia a me bene allora praticamente io poi mi sono attivato vorrei un attimino mettere dove sta eccolo qua ok perfetto allora questo è quello che sta accadendo in questo momento ok in Iran praticamente ci sono una infinità una infinità di persone folle pazzesche folle pazzesche che praticamente hanno invaso le strade allora che cosa è successo noi nel nostro canale che ora ve lo mostriamo è questo qua allora Alessio 912 allora abbiate pazienza perché è tutto altamente improvvisato dai ora mettiamo la quinta abbiate pazienza ora mettiamo la quinta dai e partiamo partiamo veloce per non farvi come dire perdere tempo neanche a voi allora perfetto questo è il nostro canale il nostro secondo canale il nostro primo canale si chiama Alessio 912 io sono il gestore mi chiamo Alessio Evangelisti benissimo allora abbiamo fatto il primo gennaio una live una live dove appunto abbiamo parlato di quello che è successo nelle ultime ore dell'anno scorso quindi nelle ultime ore dell'anno 2019 bene è quello che ci prospetta il nuovo anno in corso il 2020 ecco qua questo è il video si chiama live profezia fine 2019 inizio 2020 guai in arrivo USA Iraq più Iran Cina Russia benissimo qui abbiamo come dire avvisato diciamo tutti coloro che sono interessati in quello che è successo di molto grave ovvero l'ambasciata americana a Baghdad in Iraq è stata attaccata è stata attaccata praticamente dagli dagli iraniani anche se in maniera indiretta ovvero hanno assoldato un gruppo di persone che potesse perpetuare tale attacco questo è quanto benissimo diciamo che quasi non dico contemporaneamente ma insomma pochi giorni prima erano stati come dire erano state fatte delle maniovre nel golfo di Oman davanti di rimpetto al golfo di Oman quindi qui c'è l'Arabia Saudita sotto c'è lo Yemen a destra c'è l'Oman di rimpetto c'è il golfo di Oman in quelle acque diciamo sono state fatte delle prove militari fra tre megapotenze la prima è la Russia insieme la Cina e ovviamente non poteva mancare l'Iran che sappiamo che per quanto riguarda il discorso Medio Oriente è una grande potenza sotto molti punti di vista benissimo adesso vi rimetto le immaginette questo lo tolgo che ci confonde eccolo qua questo è quello che sta succedendo adesso in Iran allora che cosa è successo Trump sappiamo tutti che non è Obama non è il signor Barack Obama che quando ci fu se vado a memoria perché è tutto improvvisato quando ci fu l'attacco dove mi pare in Libia Beirut non lo ricordo ci fu un attacco agli americani e dove morirono molti americani Obama non alzò un dito eccetera 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 quando ci fu adesso l'attacco a Baghdad Trump si pronunciò e disse non succederà quello che è successo non mi ricordo dove mi pare in Libia Beirut o qualcosa del genere non si riconcretizzerà quello che è successo lì perché eccolo qua non si riconcretizzerà perché io non lo permetterò perfetto allora io non lo permetterò infatti infatti praticamente l'attacco all'ambasciata americana a Baghdad c'è stato nelle ultime ore dell'anno scorso oggi è il 3 gennaio mi sveglio questa mattina e guardate qua ucciso generale Hassan Soleimani o come si dica come si pronunci non lo so è allarme rosso ovviamente in Israele ovviamente bene quindi allora le notizie ci dicono che un drone americano ha ucciso il generale Hassan Soleimani capo della forza Quds delle guardie della rivoluzione islamica e adesso si teme per la reazione iraniana infatti detto fatto ripeto noi qui in questo canale non siamo a favor come dire di nessuno nel senso che noi riportiamo semplicemente le notizie noi siamo cristiani questo è un canale cristiano quindi se se non sei d'accordo con la nostra posizione non sei obbligato a seguirci quindi noi semplicemente riportiamo riportiamo la attenzione riportiamo la notizia praticamente gli americani ok uccidono questo grande generale per chi sa per chi segue le notizie sa perfettamente che questo generale è il è il generale forse più importante che gli iraniani avevano era molto vicino all'Ayatollah e era anche molto vicino a tutto l'apparato diciamo presidenziale no eccetera 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 quindi questo evento a livello politico a livello geopolitico e a livello bellico e perché no anche a livello economico perché qui c'entra tutto ormai è talmente importante che può cambiare drasticamente tutta la situazione geopolitica attuale nel Medio Oriente è un fatto determinante potrebbe essere talmente tanto determinante da vediamo adesso gli sviluppi essere equiparato al giorno prima e dopo l'11 settembre 2001 delle torri gemelle è un fatto che potrebbe destabilizzare tutto il Medio Oriente noi sappiamo che il mondo dipende la stabilità del mondo dipende più che dal discorso della Corea del Nord della Cina del Sud America che viene attaccato dagli Stati Uniti eccetera 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 cose di notevole importanza ovviamente ma nulla è da paragonarsi a quello che succede in Medio Oriente quello che succede in Medio Oriente da sempre chi ha un minimo di cultura togliendo le capre di turno chi ha un minimo di cultura sa che la pace del mondo ok dipende da quello che succede in Medio Oriente punto e questo è stato profetizzato già abantico dalla parola di Dio or sono migliaia di anni chi non è d'accordo può andare altrove questo è un canale cristiano quindi noi tutto quello che facciamo e diciamo lo facciamo lo diciamo alla luce delle profezie bibliche punto quindi chi non è d'accordo arrivederci grazie non sei obbligato a seguire un canale cristiano punto quindi che cosa succederà adesso la risposta è molto semplice chi vivrà vedrà quindi per sapere quello che succederà non dobbiamo fare altro che stare in finestra qualcuno dirà bene hai scoperto l'America grazie e tu hai scoperto l'acqua calda benissimo andiamo avanti una cosa è certa tutte queste cose sono state profetizzate abantico e noi sono nove anni che stiamo portando profezia biblica ok non esiste nessun altro libro al mondo tranne che a parole dove possa mostrarci per migliaia di volte delle profezie nero su bianco addirittura nominando il luogo e il tempo esatto in cui si sarebbe concretizzato benissimo a tal proposito c'è una profezia che noi già abbiamo trattato abbiamo fatto un video si trova nel primo canale forse poi lo riposteremo lo metteremo anche sotto al presente link e poi perché no anche ricaricarlo si trova nel primo canale adesso io lo voglio andare a prendere certo così a lungo e vabbè pazienza se io vado in Alessio Alessio 912 vado qua allora vado qua se niente allora ah qua Iran se io metto Iran I Iran eccolo qua questo qua ok questo qua è stato fatto nel 2013 dove vi mostriamo e ve lo incollo qua perfetto eccolo qua poi ce n'era anche un altro 20 di guerra Israele e Iran alle porte eccolo qua anche questo è molto importante ma questo già è il secondo molto meno diciamo cioè il numero uno è quello più determinante perfetto allora questo è quanto perfetto quindi vi abbiamo messo quindi noi già ne avevamo parlato allora dove sta ok quindi noi già ne avevamo parlato quindi torniamo qua quindi la parola di Dio or sono migliaia di anni siamo in Geremia 49 potete anche esaminare Isaia capitolo 17 per quanto riguarda Damasco e qui dice praticamente che alla fine dei tempi eccolo qua dove è scritto negli ultimi tempi ok quindi la parola del Signore mi fu indirizzata fu indirizzata al profeta Geremia contro Elam chi sono gli Elamiti sono i persiani che poi cambieranno il nome da Persia a a Iran nell'anno 1935 39 non lo ricordo è tutto improvvisato nel principio del regno di Sedechiere di Giuda dicendo così ha detto il Signore degli eserciti ecco io rompo l'arco di Elam che è la loro principale forza quindi nella fine dei tempi ci troviamo con Geremia quindi 2000 quasi 600 anni avanti Cristo ci dice la parola di Dio che la Persia sarebbe stata una potenza diciamo militare notevole e che sarebbe stata al centro delle notizie del mondo ecco a distanza di scusate ho detto 2500 avanti Cristo no 2500 anni fa ovvero circa nel 600 avanti Cristo scusate perché a volte penso una cosa e ne dico un'altra o questo diciamo o questa cosa chi mi segue ormai mi conosce abbiate pazienza quindi 2600 anni fa è stato detto tutto questo quindi che l'Iran la Persia l'Elam sarebbe stata al centro delle notizie ok del mondo e che sarebbe stata avrebbe avuto una forza bellica notevole e quindi farò venire contro gli Elamiti i quattro venti quindi un pochino da tutte le parti nord e sud est e ovest dalle quattro estremità del cielo qui ci fa capire che l'attacco potrebbe essere dai cieli infatti si sta parlando ormai da almeno dieci anni che Israele si sta preparando da una vita per attaccare gli Elamiti proprio con la loro forza aerea ovvero anche dei missili in virtù anche del fatto che gli Elamiti da una vita stanno dicendo di voler distruggere Israele benissimo noi rapportiamo le notizie poi appunto qui ci fermiamo ora chiaramente noi come cristiani diciamo sempre Dio benedica tutto il mondo ovviamente Dio benedica tutto il mondo Dio benedica gli Elamiti Dio benedica gli Stati Uniti Dio benedica gli Arabi Dio benedica tutti ma soprattutto noi diciamo da cristiani Dio benedica anche Israele come scritto in Genesi Dio disse ad Abramo chi ti benedirà sarà benedetto chi ti maledirà sarà maledetto quindi noi benediciamo Israele come benediciamo il resto del mondo eccetera eccetera ma la professia è chiara e li dispergerò a tutti questi venti non vi sarà nazione alcuna alla quale non pervengano degli scacciati di Elam questa è la profezia io spaurirò gli Elamiti dinanzi ai loro nemici e dinanzi a quelli che cercano l'anima loro farò venire sopra loro del male l'ardor della mia ira dice il Signore e manderò dietro a loro la spada finché io li abbia consumati metterò il mio trono in Elam metterò il mio trono in Elam ovvero ci sarà della gente che seguirà le vie di Dio e farò perire re e principi infatti oggigiorno il governo degli Elamiti diciamo è sia un governo che ha il suo premier primo ministro chiamalo come te pare contemporaneamente a un organo religioso che è l'Ayatollah Ali Khamenei sto perdendo la voce come al solito ok e questo è stato profetizzato 2600 anni fa ma pure negli ultimi tempi avverrà che io ritrarrò gli Elamiti di cattività dice il Signore questa è questa parte qua è un po' difficile da comprendere potrebbe essere che si riferisca agli Elamiti di nazionalità ebraica come ce ne sono tanti e potrebbe significare altre cose ma adesso questo esula dal presente contesto dal presente oggetto questo è quanto benissimo allora contemporaneamente a tutto quello che sta succedendo nel mondo vi rimetto il video eccolo qua contemporaneamente a quello che sta succedendo nel mondo il mondo tutto sotto sopra da un punto di vista bellico geopolitico economico per quanto riguarda i disastri naturali che stanno sempre di più aumentando noi sappiamo che tutto sta crescendo a dismisura che i ghiacciai dopo migliaia di anni si stanno cominciando a sciogliere questo scioglimento dei ghiacciai sta alzando il livello del mare il livello del mare sta cambiando la temperatura del globo terrestre coprirà tutte quante le isole tutto questo viene profetizzato dall'Apocalisse e non solo dall'Apocalisse anche dall'Apocalisse veterotestamentaria che c'è molta più Apocalisse nell'Antico Testamento che nello stesso Nuovo Testamento nei profeti minori quasi tutti riportano tantissima Apocalisse ma la gente tantissima gente non sta vedendo nulla come dirà Pietro come dirà Pietro seconda Pietro che praticamente molti dicono dov'è la promessa della sua venuta perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati tutte le cose continuano nel medesimo stato come da principio della creazione infatti sono molti che dicono le sciocchezze ovvero che dicono ma i terremoti ci sono sempre stati una su tutti perché lo dicono? perché loro come mestiere fanno i lanciatori di coriandoli sono ignoranti non sanno niente ma se noi andiamo agli esperti in queste cose vulcanologi quelli che studiano i terremoti e così via discorrendo loro con tanto di lauree con tanto di cattedre quindi anche notevoli professori di università ci dicono che da 150 anni a questa parte i terremoti sono aumentati di centinaia di volte con fronte al passato e quello che sta succedendo oggi nel passato non è mai avvenuto ma uno che fa come mestiere il lanciatore di coriandoli pretende di saperne di più e ci dicono no non ascoltate i professori di università non ascoltate loro ascoltate me che come mestiere faccio il lanciatore di coriandoli benissimo decidete voi poi le cose sono sempre andate nella medesima forma ha detto Pietro ma infatti infatti se tu studi la storia nel passato 2000 anni fa gli abitanti della terra erano sì e no un par di cento milioni e fino a 150 anni fa erano non superavano il miliardo delle persone non è mai successo che nella terra vi fossero quasi 8 miliardi di persone ma i lanciatori di coriandoli ci dicono beh le cose sono sempre andate uguali ma infatti le cose sono sempre andate uguali infatti quando la apocalisse ci dice che negli ultimi tempi gli uomini avrebbero avuto la capacità dell'armamento nucleare di oggi i lanciatori di coriandoli ci dicono ma le cose sono sempre andate nella medesima forma ma infatti quando noi andiamo nel 2000 avanti Cristo c'era Abramo che già aveva la bomba atomica poi è venuto Isacco ha fatto la bomba termonucleare poi è venuto Giacobbe e per stato il primo a arrivare sulla luna ma infatti le cose sono sempre andate nella medesima maniera infatti chi lo dice i lanciatori di coriandoli ma la parola di Dio e il mondo esperto in geopolitica e quant'altro ci dice l'esatto opposto decidete voi a chi volete seguire se ai lanciatori di coriandoli ovvero la parola di Dio tutte queste cose sono state ben profetizzate nella parola di Dio già ab antico contemporaneamente ai lanciatori di coriandoli abbiamo un'altra categoria che è questa i fumatori di marijuana colorado tutti in fila per comprare la marijuana vogliamo leggere a tal proposito Timotio che dice sappi questo Timotio che negli ultimi giorni sopraggiungeranno tempi difficili perciò che gli uomini saranno amatori di loro stessi amatori di loro stessi saranno avari saranno vanagloriosi superbi bestemmiatori disubbidienti ai padri ai madri scelerati senza affezione naturale mancatori della fede calunniatori incontinenti sapienti senza amore verso i buoni traditori temerari amatori della volutà anziché di Dio vogliamo cambiare versione ok amanti del piacere anziché di Dio quindi negli ultimi giorni gli uomini in particolare qui si riferisce alla chiesa di Gesù Cristo l'abbiamo già spiegato dice che gli uomini saranno amanti del piacere anziché di Dio ecco qua che in colorado mentre il mondo è sotto sopra molta gente va dicendo ma le cose sono sempre andate nella medesima maniera l'Apocalisse si sta concretizzando sotto i nostri occhi pseudo credenti alla Salamone dicono che l'Apocalisse è un libro allegorico guarda caso questo libro allegorico si sta esattamente concretizzando sotto i nostri occhi e non si tratta solo del del marchio della bestia il 666 come dicono loro una mera coincidenza ma l'Apocalisse di coincidenze è piena di decine 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 di profezie e allora qualora anche fosse un libro di allegorie guarda caso queste allegorie si stanno concretizzando tutte quante ecco qui che mentre il mondo è sotto sopra e ci troviamo nella pre-Apocalisse per utilizzare un termine biblico potremmo dire principio di dolori la gente che cosa fa non va da quello che succede nel mondo e se va a fa le canne di marijuana per bruciarsi il cervello perché la marijuana ti brucia il cervello ora non è solo la marijuana che ti brucia il cervello se tu prendi le religioni esoteriche massoneria rossacroce che è tutto gnosticismo allo stato puro quello brucia il cervello più della marijuana rendiamoci conto di quello che sta succedendo nel mondo quindi questa cosa qua questa cosa qua sto perdendo la voce io quando inizio a parlare perdo la voce tra un po' non parlo più questa cosa qua che è successo vabbè parlerò così non c'ho più voce ma tanto chiudo perché io poi perdo la voce questa cosa qua questa cosa qua ci sono gli ufo che mi vanno a zitti qualcuno dirà quello è Mauro Biglino che ti manda l'ufo hai visto è il potere di Mauro Birillo ah hai capito scusate la battuta ma tra un po' non parlo più allora quello che sta succedendo qui che è successo che hanno ucciso questo generale fratelli e amici è determinante altro che il 2020 come ha detto lo pseudo apostolo Guglielmo Maldonado ha fatto la profezia per il 2020 e la profezia di Guglielmo Maldonado recitava quanto segue siccome Dio fa tutto attraverso i numeri bene siamo nel 2020 2020 significa 20 davanti di dietro 20 davanti 20 più 20 quindi hai perso 20 riceverai 20 quindi tutti i soldi che hai perso li recupererai ecco questo è il mondo apostolico poi questa gente viene invitata qui qui in Italia dai dagli apostoli no e viene fatta parlare ecco qua ma la parola di Dio ci dice che il mondo andrà di male in peggio il mondo sta per entrare nel giorno del Signore arrivano guai per la terra arrivano guai per la terra arrivano guerre pestilense arriva mancanza di lavoro più tasse una catastrofe sta per concretizzarsi quando si entrerà nel giorno del Signore altro che pace come dicono coloro che non conoscono la Bibbia nella prima parte della grande tribolazione moriranno almeno due miliardi di persone nella prima parte perché la parola di Dio non parla non dice che ci sarà pace dice quando diranno pace non quando ci sarà la pace ci sarà solo quando verrà il Cristo per la seconda volta per regnare per mille anni allora ci sarà pace per la prima volta nella faccia della terra bene questa cosa qua che hanno ucciso questo generale Hassel Soleimani è di rilevante importanza cosa succederà adesso che vi verrà una cosa certa guai 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 in arrivo questa è stata la notizia con voi come sempre è stato Alessio Evangelisti io vi saluto perché non la voglio far lunga ok e quindi saluto Aurora Cuore Fervente Ben Zedrex Rosaria Libro Strue Emanuela Ciapponi bene Dio vi benedica pace a tutti quanti a tutti Grazie.